buonasera a tutti e benvenuti bentornati in un nuovissimo gioco che ho visto in un video adesso vi spiego tutto prima cosa mi scuso sono un po' raffreddato sono displiciolato cioè ci sono stati giorni che non riuscivo neanche a parlare da quanto la mia colonna era messa male vedete c'ho anche la barba incolta dove me la devo andare a fare sono disperato chiamare tipo un piede non lo so più che fare comunque se sentite la mia voce messa male è il motivo c'è minima attaccata al tram però volevo registrare quindi sono cazzi vostri come avete potuto vedere dalla schermata qui sotto possiamo dire avete riconosciuto il gioco di a monster park perché se non ti mostro park su google non te lo trova questo è un gioco praticamente che ho conosciuto grazie a mamid e a senca che ci giocano mamid ha fatto ho visto il primo video qualche spezzettone non li ho visti tutti perché incuriosiva me ne ha parlato tantissimo e non ho deciso di portarlo ovviamente gliel'ho anche detto perché a prova di imbecille allora ragazzi non sono andato avanti tantissimo cioè ve lo dico che vuole questo cannotti non ho la licenza per questa regione non ho la licenza perfetto comunque non sono andato avanti tantissimo vi dico perché volevo giocarlo con voi se io non andrò tanto voglio dare abbastanza ruota con voi che è questo display del pokemon pin vabbè vedete anche dalla quest qua sopra non sono andato avanti tantissimo piano piano vado avanti piano piano non c'ho fretta esce a fretta non c'ho fretta ho preso bulbasaurio come primo pokemon infatti mi deve già diventato un bellissimo ivis hour e sono andato un po' avanti adesso devo sfidare sfidare allenatori su allenatori se non sbaglio questo è anche il server dove gioca mamid eh se non sbaglio magari gliel'ho chiedo se vogliamo incontrarci fare qualche partita boh adesso vediamo allora adesso andiamo avanti torniamo dove ero rimasto adesso devo fare qualche lotta ma non ancora non voglio fare il lotto contro i pokemon celmatici che è sempre dei pigi mi viene da piangere basta pigi non li voglio si si va bene attacco azione via pusha via non ti voglio via via pusha via non ti voglio neanche vedere via su nooo turbo shabbia basta no non le voglio via ma come balla il mio guarda in giro ho vinto poi ah mi spiega dove sono stiata che è fair point che non lo so che mi vengo sempre mi viene da piangere non so cosa sono sono ignorante non so come si saltano pronto vorrei un repellente in questi momenti a posto battuto anche questo avanti il prossimo una quarantina di pigi li abbiamo battuti via si vabbè è il solito bellosum che hanno tutti vabbè neanche da dire il solito bellosum allora andiamo avanti dai caricamenti lunghi dai ok perfetto ho trovato la soluzione adesso sto qua e vediamo un po' come va avanti qua ale comodo comodo vai 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 su tira dritto vai vai non ti chiedo niente vai su su dritto 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 alleluia c'è venuto un quarto d'ora ha fatto una non mi ricordavo di essere arrivato fin qua io sinceramente devo combattere contro la pupa contro pupa ecans ecans allora vabbè attacco azione questa me la smadonna dai su attacco azione questa me la smbrisciolo in due secondi alle oh no ogni po' che me l'ha perso com'è possibile com'è fatto eh non te lo posso dire ho vinto vabbè roba ah quest ah quest del giorno vediamo un po' quest del giorno so cliccare ah una di queste ah ok devo vedere una di queste quest del giorno accettarla ah durano otto ore ok quindi ne posso scegliere una facciamo questa percorso 1 devo fare questa qui proviamo 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 cosa devo cliccare sto cliccando un po' a cazzo cosa è successo non ho capito cosa è successo devo aver accettato una quest non lo so ragazzi aiuto helpatemi ho accettato qualcosa che non so cos'è ho vinto qualcosa ebbè eh ah ho capito posso aprire e vincere la roba ah con le stelline appunto ah c'ho la il gif da prendere 10.000 vabbè me lo prendo scusa e anche qualche ultra ball non le posso prendere no no tra 9 ore le posso prendere tra 9 minuti posso prendere le ultra ball un fa un weedle a me piace beedrill onestamente a me piace beedrill non so se prenderlo ah il mio ho anche imparato ebbè non lo prendo semplice non lo prendo faccio prima più sbrigativo ho vinto yeee allora andiamo avanti col go va là così mi scia tutti i pokemon scellatici su che tanto li conosco tutti via andate il prossimo levati levati allora qui che abbiamo un pichu un pichu p pichu addio scappate anche le cuffie sono andato in crisi devo andare dall'elite player in predio del percorso 3 guarda che me ne ricordavo così in fila 1 2 3 c'era una città mi se non sbaglio in mezzo cos'è anche mi saltate le città buongiorno ah ok questo mi da solo il premio ok dalla minimappa ok devo andare a vedere la mappa del mondo io sono qui ok sono qui ah nelle città dove sono già andato ah ok posso trasportarmi nelle città dove sono già stato ah ok ok ha senso la cosa ha senso ha senso andiamo avanti oh bello snorlax poi devo cliccare qua sulla missione puttana mi ha spuntato un macham dietro la schiena con la coda aspetta ah ok non sia ok un macham con la coda un scema può stare nel seribrezzo è brutto allora devo andare al professor rock e ok per la palestra dei tipi si devo andare alla palestra dei tipi terra mi chiede se sono pronto io sono prontissimo eh se mi consiglio di usare quello io uso quel cavolo che mi pare a me non mi consigli niente io uso quello che mi pare permetti di chiedermi quelli che devo usare io ti posso permettere professore dei miei stivali e manco se sono maschio o femmina buongiorno vabbè fa far lotte su lotte e ma un'altra pupa pupa cos'hai giubbatt ma varo giubbatt me lo mangio colazione io vai vai giubbatt in meno se vabbè dai ma non si può vincere così dai ok devo aprire il menu adesso cosa c'è ah ok mi dice la forza è diventato più forte adesso è diventato più di una potenza ah ho capito se ho tutti questi oggetti qua me lo potenziano ah ok ok beh interessante questo è un pikachu non lo voglio un pikachu ma mi fanno cagare facciamo una cosa voglio andare un po' volevo andare sull'erba alta mi hanno fregato malevata da lì con quel meo va là dai dai ivisaur a me non mi piace ivisaur non mi piace poi qui lo fanno evolvere con una pietra foglia ivisaur mi fa proprio riprezzo per evolverlo mi serve la pietra foglia che senso ha ci evolve con il livello un octol beh no no un octol non è male un octol non è male dove sono bag pokeball sfera poke vai andiamo adesso lo catturo dai che lo catturo dai che lo catturo all'ultimo e io ci riprovo sono insistente ora mettiamo che ci riprovo sono insistente io guarda che io insisto un temollo un temollo provo con la megabon un temollo tiè ma stronzo no lo catturo ho sfreccato tre pokemon per catturarlo ho un octol vai così un octol però in squadra non ce l'ho devo andare poi a mettere ah no ok posso mettere già da qua quindi ok perfetto vai octol allora voglio cambiarli però con come si fa scambiarli volevo aspetta come si fa ah così ok 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 così ok lo metto in prima linea come si fa a mettere aspetta aspetta perché ce la fa eh ce la fa ce la fa aspetta eh come ho fatto l'altra volta mi ricordo più mmm capsule no poke center ok no 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 non è vero la cappella non ho capito cosa ho fatto penso di averlo messo in allenamento si credo di averlo messo in allenamento praticamente ci sta allenando non l'ho ben capito cosa succede vabbè ho fatto cose non so cosa ho fatto cose non so cosa vabbè davanti su diamoci tutti gli allenatori del palle vai noctol vai noctol attaccazione bravo noctol piano 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 che cazzo che cazzo è un noctol non è mica un graudon vasci piano eh che cazzo eh ti ho detto vasci piano io però così si fa facciamo go me li porta indietro ah mi ero dimenticato di ah ok dovevo ah ok trainer cosa devo fare allora clicco su trainer eeeh enter no cosa devo fare non me l'ha spiegato ah posso prendere altra roba bene 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 prendo questa scusa cassa grande figlio figlio cassa grande scusa eh a lì vedi si ci fa allora break greeting ma io sto facendo le cose non lo so ok ah posso aprire il gift vai ah le ultra bolle le ultra bolle la roma che non serve un cazzo perfetto perfetto ora devo andare a viridian city che c'è il team rocket che vuole fare le cose brutte vai 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 così mi piace veloce meril meril il piccolino lui che ce la prende a male oh che cazzo eh vai dai un meril sinceramente lo voglio catturare un meril cazzo vai 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 cattura cattura oh che figo un blastoise che figo un blastoise cazzo mi tira delle laggate ogni tanto che ehi no ma anche lo voglio ma perché uno dei mie pokemon preferiti è prima hype no me l'ha battuto dai puh è stardo di un bellosum che stronzo però volevo anche vabbè ma se non lo riprovo dopo dai mo riprovo dopo allora vediamo un po' di fare un bel avalegno qua un bel avalegno che mamidi io ho visto il video che fece molto tempo fa che era andato un po' avanti io ho visto ecco credo che fosse in sta città quando è incominciato lui se non sbaglio sì era qua se non sbaglio non è che è alto questo posto sì era qua se non sbaglio era qua in giro qui c'è la palestra era qua se non sbaglio non so mica sicuro perché non me lo ricordo non me lo ricordo è passato tanto da quando ho visto quel video perché è da un po' che lui li fa è da un pochino che li fa dove cazzo è il centro pokemon io cercavo il centro pokemon oh eccolo qua ah le fammi curare il pokemon oh tronzo tutti i metri non devi curare il pokemon tronzi allora dimmi dov'è che devo andare che tu sei più intelligente di me che cazzo mi porta come cazzo facevo a sapere che dovevo andare da te sì cattura due pokemon devo catturare due pokemon di qualsiasi tipo del percorso va bene andiamo andiamo a catturare due pokemon del percorso buona fortuna andiamo un po' oh se c'è qualcuno che piace a me me li tengo io eh voglio io alcuni spiro spiro mi fanno un cazzo non mi fanno un cazzo va là non li vedo neanche no va là non li vedo neanche dai su 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 spera pochè no megaball vabbè sei più sicuri neanche ho catturato anche con la pokeball dai su uno in meno uno in meno avanti prossimo dai su il secondo il secondo il secondo dai andiamo stavolta dai un altro spiro no mi sa che non lo vuole un altro spiro devono essere diversi però proviamo proviamo però ma secondo me devono essere diversi devono essere due firo va a vedere mi li conta no mi li conta va bene completatore a questo ah ci sono due pallini rossi di sopra che non capisco brick ah posso potenziarli vai 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 perfetto ok quando ci sono i pallini rossi li potenzio vai così vai ancora vai 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 visaur faccio diventare op vai 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 sulle capsule c'è qualcosa posso comprare una di queste ho soldi veri o ah no ok non l'avevo ancora aperta ho vinto una una great ball ho vinto una great ball dai gratis e questa dà che cazzo perché devo pagare le mie gemme e le gemme me le tengo tutte me non so che si comprano le gemme o si trovano comunque vabbè si trovano comunque sempre però sinceramente parlando me le voglio tenere un tempo a me perché secondo me si prende qualcosa di OP con tante gemme lo so già signorina signorina scolta oh mi faceva cliccare all'è dai garage 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 bene ragazzi direi che per il video stavo mi è passato un laprash davanti cavalcabile vabbè è nuovo sto gioco per me anche se mi ricorda molto pokemon oro argento che lo potevi portare dietro il pokemon non lo potevi calcare però me lo ricorda abbastanza quindi bene ragazzi spero che il video vi possa essere piaciuto vi riporterò probabilmente ai monster lasciate il pollice su se vi è piaciuto questo video dico di lasciarlo se mi è piaciuto questo video commentatelo condividetelo ovunque anche accesso mi raccomando e niente scusatemi per questa voce ma quella che c'ho c'ho e per un momento possiamo dire che è è finita ma un pokemon cos'è sto cosa pikachu coming cos'è il pikachu coming che non so un cazzo non so un cazzo chi è che sa cos'è il pikachu coming che non so cos'è io me lo scriva nei commenti non so cos'è il pikachu coming me lo scriva nei commenti non lo so